Buonasera a tutti, benvenuti a questa serata. Io sono Francesca della Polisportiva San Precario. Vi dico due parole su come siamo arrivati fin qui. In vista dello sciopero dell'8 marzo organizzato da Nonuna di Meno, noi come Polisportiva abbiamo fatto una ricerca che doveva essere breve. In realtà è stata una grande sorpresa, non in positivo purtroppo, sulle condizioni della donna atleta. Qui abbiamo scoperto un mondo, ci si è aperto un mondo gigantesco e abbiamo scoperto che la legge che regola il professionismo sportivo intanto è antica, è antichità ed è una legge del 1981 che delega al CONI e alle federazioni sportive la decisione di quali siano gli sport considerati professionistici. Attualmente in Italia sono quattro e sono il calcio, il basket, il golf e il ciclismo purtroppo tutti declinati al maschile. Questo vuol dire che in Italia qualsiasi atleta donna è per definizione e legalmente considerata una dilettante. Oggi noi qui parliamo di donne ma non dimentichiamo che tutti gli atleti uomini che non fanno parte di questi sport hanno gli stessi problemi di cui parleremo oggi. Cosa significa non essere un atleta professionista? Significa non avere delle tutele, significa non avere dei contratti di lavoro, quindi ricevere un rimborso spese e non uno stipendio. Significa non pagare i contributi pensionistici e quindi finire la carriera senza una tutela economica. Significa non avere tutele per le invalidità, per la maternità, anzi per quanto riguarda la maternità addirittura esistono dei contratti che prevedono delle clausole antimaternità per cui se una donna atleta rimane incinta automaticamente il contratto viene rescisso. Significa essere in balia delle società sportive, esiste ancora per i dilettanti il vincolo sportivo per esempio che prevede che sia la società senza il consenso dell'atleta a decidere sugli spostamenti, sui trasferimenti e su dove questo atleta o questa atleta giocheranno. Questa situazione tutta italiana è un po' all'oscuro della popolazione. Io per esempio che gioco a pallavolo da quando avevo sei anni non avevo idea che se un giorno fossi diventata un atleta professionista non avrei avuto alcun tipo di tutela nella mia vita sportiva. Quindi noi siamo qua soprattutto in questo momento per condividere con più persone possibile questa problematica e ne parliamo con delle fantastiche atlete e con Luisa Rizzitelli, presidente di Assist che ci racconterà cos'è Assist intanto e di come si stanno occupando di questi problemi in Italia.